Comunità e valore condiviso. I primi mecenati, io stesso vi ho aderito subito, nel 2016, credendoci fortemente, convolti in prima persona per raccontare un'idea e contribuire con entusiasmo a dar vita a una comunità che è cresciuta e si è rafforzata nel tempo. Lo sviluppo di relazioni e il senso di appartenenza tra mecenati e il macerato a opera festiva rappresentano un ruolo strategico per l'intera comunità territoriale, che vede nello sferisterio il proprio simbolo identitario. Il progetto dei Centro Mecenati è cresciuto ogni anno e questo straordinario risultato è frutto di un festival di tutti e per tutti, con partecipazione profonda della comunità a tutti i livelli. L'Associazione Arenas Firisterio, anche nel 2020, nel pieno rispetto delle norme anticontagio e con coraggio, ha deciso di non rimandare il festival e ha proseguito nel suo percorso con determinazione e grazie al supporto di istituzioni, spettatori, sponsor e naturalmente dei Centro Mecenati. Il 2021 è un anno speciale in cui si celebrano i cent'anni della prima rappresentazione elitrica in arena, l'Aida del 1921. Il Centro è un numero significativo nella storia dello sferisterio, edificato dai cento consorti e oggi sostenuto anche dai cento mecenati. Oggi guardiamo al futuro, orgogliosi di questi cent'anni e con l'augurio che il convolgimento del territorio sia sempre maggiore. Grazie a tutti.